ehi la curma io sono la tritessa e ben ritrovati qui su expeditions room nell'episodio numero 99 cioè 99 wow tantissimi e il gioco non è neanche così fenomenale però se non altro essendo un gioco di ruolo è molto bello vedere svilupparsi le questioni devo dire che sono stato abbastanza non dico emozionato perché serve forse una parola troppo forte per quel tipo di sensazioni però sono stato smosso dal come Iulia Calida ha accettato la proposta di matrimonio di mazzetesse e del fatto che effettivamente convolino a notte e che le altre cose si sono risolte ci sta e beh è proprio quello che il gioco di ruolo dovrebbe darti è proprio quello che il gioco di ruolo dovrebbe darti mi spiace che dal punto di vista del gameplay è un po' così però insomma sa comunque dare delle cose interessanti ogni tanto allora torniamo a noi però allora Kaeso dice oh un altro giro questo lo pago io no fuori questione non voglio dare altri soldi a quel figlio di cane di Vipsania lasciamo che il passato si è il passato ma vanno ancora nella sua taverna con tutte le taverne che ci sono a Roma devono ancora andare nella sua taverna se ti parli molto di vengenza a te stesso Cantorio ti farà bene per prendere la sua proposta no ma poi parla molto di vendetta ma non fa poi niente sembri di essere un po' fuori forma eh beh, si vede dal territorio credo la vita domestica e libera vita ha un altro tipo di peso sulle spalle ah è oppure sullo stomaco Kaeso paterfamilias sembra davvero strano è anche molto più difficile di essere un Cantorio probabilmente hai ragione specialmente considerando che i tuoi soldati sono là per morire al tuo comando è il loro dovere specialmente considerando che i tuoi soldati sono là per morire al tuo comando è il loro dovere quando si tratta alla famiglia il tuo obiettivo è di mantenirli vivi e resta in una differenza niente quando invece devi occuparti della tua famiglia e le robe importanti è che devi tenerli vivi questa è una cosa che cambia dal giorno alla notte questo mi ricordo cosa è successo a Marcello Swiss Psonio eh perché l'hai portato? inoltre non mi dico una piazza ha risultato di soffrire non potrebbe farlo ma non potrebbe farlo che ha fatto eh non so cosa è successo ma meritava di soffrire eh ma non importa è per la questione di giustizia la giustizia significa che non vedo la mia famiglia ancora? non per me qualche censore o qualche magistro dovrebbe osservare questo tipo di cosa cos'era? cos'era? c'è qualcosa di serio che sembra di succedere a fuori meglio prendermi una guardia vado a prendere la mia spada c'è altro da prendere prima di uscire qua che posso equipaggiarmi le cose? vedi che cosa sta succedendo è inventory prendi il parazonium scudi non ne ha mettiti questo ah no non può mettere niente non abbiamo qualche tipo di scudo? scudo? no beh secondo te abbiamo il parazonium che è meglio che non quel coltello da cucina che c'era là i galli stanno attaccando Roma ma questo è suicidale i galli stanno attaccando Roma ah è vero potrebbe essere in pericolo ehm Kaeso cerca calida e bestia e troviamoci la villa si veloce oppure Sineros io cercheremo di salvare mia madre tu devi cercare bestia e calida oppure state con me non possiamo separarci in questo caos dobbiamo cercare di raggiungere la mia villa no direi Kaeso vai a cercare calida e bestia sei stupido? ho mai pensato che questo avrebbe venuto in questo modo Sineros da solo non mi fidavo a lasciarlo e ho scoperto sono scoperto e ho dovuto andare e ho scoperto Ma non faccio danno, cavolo Sino e rossa è qualcosa? No, Sino e rossa non ha niente Però c'è l'inspire ma lui ha delle altre azioni che può fare Corri sui nostri Dagli un inspire Fa un knockdown su lei Non ho capito cosa mi hai detto Stanno massacrando civili Ma cos'è sta storia dei galli a Roma? Comunque non ha alcun senso C'è qualcuno che sta cercando di creare Confusione Sì qua ci mettiamo 80 anni proprio per uscire dalla città Adesso posso Quando potrei dare fuoco alle guardie Non ho capito cosa mi hai detto Ah Oh Ah 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 Dove chiudereci come viene a girare, perché là c'è tutto in fiamme. Allora, là è tutto in fiamme, non credo di riuscire a passare da quel lato, quindi dobbiamo per forza venire di qua. No, prima vai qua. E Sinaros qua. Sinaros fa gli un Inspire? No, magari è sufficiente fare questo. Esatto. Eh no, can it reach target? Sinaros sta un po' più avanzare, vero? No. No, mi ferrerò qua. Ah no, qua ci sono i water jug, dammi dell'acqua. No, però non qua. No, è meglio che bruci il tizio intanto. Che confusione. Riusciremo a scappare? No, non so, qua non ci sono neanche guardie per difenderci. Quei due l'acqua da fanno là dentro. Stanno difendendo la cantina. Ok. Aia. Dai, dovete resistere almeno un minimo per farci scappare. Romani. Bravo. Ma sarebbe morto lo stesso? Tiena andare su quell'altro? Vabbè, così posso spegnere il fuoco almeno. Ok, ha fatto il danno allo scudo. Allora, Sineros. E questo non riusciamo a tirarlo giù, eh, mi sa. Più movimento. Che serve sempre. Non so se basta quell'acqua, però. Per passare. Ehm. Cos'è che c'è qua dentro? Ah, prende le bende, vabbè. Le bende, però con le bende può curare l'altro, sai? Andiamo, non riesce... E lui non può togliersi. Porca miseria, che casino. Vabbè, vieni qua intanto. Ti spegni il fuoco. E scappiamo forte, che cavolo devo dirti. Sperando che l'altro dietro riesca a reggere ancora un giro. No, rimaniamo qua. Meglio proteggere Sineros, perché Sineros potrebbe... Peschione. E adesso l'attaccherete quella che è dentro la taverna? Poveri civili. Poi ci stanno guadagnando la via di fuga, se non altro. Mi spiace per quell'uomo. Bravissimo. Però ce n'è ancora 82 miliardi là fuori. Sineros. Scusate, me ne erano necessari. Scusate, me ne erano necessari. Non ha l'attacco d'opportunità, no? No. E non c'è nessuno. Dovrebbero riuscire a cavarsene. Per ora. Speriamo. Mi so che la taverna cade. E non possiamo salvare tutti, mi spiace. Sono davvero troppi. Spermo. Ahia. Bravo. Ottimo. Spermo morti. Ma ne rimane solo uno La difendere Sono in 4 contro 1 soltanto Se dite noi il nostro l'abbiamo fatto Quale dei due dice non ne ho idea Riesci a ridare Ma la spreca se per caso gli do il coso Proviamoci Mi sa Mi sa che si è andato sprecato Grazie Bravo Dai che ce la si fa allora Dai che ce la si fa Torniamo indietro Ma ce l'ho tutti a casa Quanti sono rimasti là Ce la si fa Ce la si fa Cioè Siete rimasti parecchi qua Guardia Ce ne so che ti chiamate Bene E teoricamente li abbiamo lasciati Che stanno ancora bene Cioè Che stanno ancora bene Sono rimasti 3 degli avversari E E Molti di più dei nostri Per cui speriamo che riescano a gestirselo bene Aia Vedo gente morta Con delle pessime ragdolle Mi sa che prossimo episodio è questo Io vi invito come al solito A lasciare un mi piace Iscrivervi al canale Perché non ci sia già fatto Ci vediamo alla prossima puntata Ciao a tutti Buona giornata